Se si desidera abilitare la funzione Multi-aziende in i Passant Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Site Wizard, quindi selezionare l'opzione Caratteristiche dall'alto. Ora fate clic sulla casella accanto alla dicitura. Utilizza più aziende per selezionare questa funzione. Infine, ricordarsi di fare clic su Sì quando viene richiesto di salvare le modifiche. Grazie a tutti.